emancipa e si libera dalla schiavitù, acquista della terra e acquista degli schiavi e quindi questo rapporto di dominazione del quale tu ci parlavi poco fa in effetti una nuova dominazione sembrerebbe questa la scelta fatta da Jane inizialmente allora c'è vero che visto oggi quando si observa il passato a tendo a oublieri che nelle plantazioni in America c'erano anche dei cerchi blanci e fino al XVII secolo si partagevano la condizione sociale dei esclaves noirs a punto che c'erano una rivolte nelle plantazioni dove i blanci e i noirs s'alliai contro i maestri che erano blanci necessariamente e io penso in particolare a la rivolte di Nathaniel Bacon Jane arriva in America proprio dopo la rivolte di Nathaniel Bacon e quindi a questo momento le condizioni sono state modifiche c'è a dire che ci sono accordate alcuni priviliegi ai cerchi blanci per fare in sorte che non partagevano la même condizione che i noirs quindi quando Jane arriva in America è condamnata a servire durante 7 anni quindi lei serve in una plantazione di tabac con una esclava noire che divina d'ailleurs son amica e a la quale lei s'identifica lei s'identifica reciprocamente l'una ad l'altra al bout di 7 anni lei è liberata perché lei è blanche quindi è il suo privilagine e a sa liberazione lei reçova qualche capitale che lui permette di s'attivare e di chiedere un esclare quindi in principe lei è passata dal côté dei dominanti lei è sensata essere divina un maestro sape che non è qualcosa che ha intériorizzato non ha intériorizzato questo stato sociale quindi lei va finire per tomber amoreuse di questa esclava che non arriva a guardare come un infirio e a questa epoca ci ha esistato c'è a dire che ci ha avuto ci ha avuto ci ha avuto ci ha avuto emancipato ci ha avuto ci ha avuto ci ha avuto e c'era molto frequente per che le Maryland ridige una loi per interdire ci ha avuto quindi a partir di questo momento Jane divina senza la loi ma non è il suo problema essaia di tracere la sua route di fare il suo camino se noi analizziamo il passato per grazie